Il risparmio è scontato. Ci credo, Antonella. Da MD c'è il 3x2. Fino a domenica 21 puoi risparmiare su tante bontà. Come... Tre confezioni da 100 grammi di prosciutto cotto alta qualità la fattoria a 3,98 euro. Tre confezioni da mezzo chilo di pasta di semola di grano duro a 1,70 euro. MD. Buona spesa, Italia. E questa cos'è? È il Peanuts Butter, la crema di noccioline di Fiorentini. La colazione ideale sul pane. Senza zucchero né olio di palma. E assaggia. Mmm, buonissimo. Peanuts Butter, Fiorentini, è la crema di noccioline. Le 14 da 5 minuti ben trovati. Buon pomeriggio a tutti. Da Leonardo, insieme al Sinole 17, Europe dell'87, Carrie. Superazio Collection. Buon pomeriggio a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti